E' stata una cerimonia semplice, carica di significato, quest'anno a causa dell'emergenza Covid senza grandi schieramenti delle forze armate e con poche persone, il tutto nel rispetto delle norme per contrastare la diffusione dell'epidemia. A piazza Vittorio Veneto, in occasione della giornata delle forze armate dell'Unità Nazionale, il prefetto Tommaso Ricciardi e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida hanno deposto una corona di alloro davanti al monumento dei caduti. Dopo un momento di preghiera da parte del vescovo Pietro Maria Fragnelli e la lettura della preghiera del marinaio, la cerimonia è proseguita con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il capo dello Stato ha ricordato anche l'impegno delle Forze Armate per contrastare l'epidemia da Covid-19. Un grazie rimarcato anche dal sindaco di Trapani Tranchida che si è soffermato anche sul personale ospedaliero e sui tanti volontari. Il primo cittadino si è poi soffermato sull'invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fare propri valori dell'unione dei territori e dei popoli che con il risorgimento hanno dato origine all'Italia. Tanto dalle Alpi al mare siamo un unico paese, siamo una cosa sola, seppure con le differenziazioni anche geografiche che portano ad esempio anche in considerazione dell'epidemia il governo a fare una cosa giusta secondo noi che è quella di differenziare le condizioni di rischio e dunque le misure di restrizione delle libertà socio-economiche del paese. Però questo tricolore ci richiama tutti a senso della responsabilità dell'unità nazionale, è un omaggio a chi si è sacrificato col sangue per darci libertà a fare un'Italia unita e dunque a tutti i caduti delle Forze Armate e oggi però è anche un omaggio a tutti i caduti della pandemia, personale medico, paramedico, civili, volontari che hanno una divisa diversa ma sono caduti per far vincere forse la più importante battaglia del nostro mondo, del nostro essere che è quello del diritto alla salute e dunque della vita. In occasione della giornata dell'unità nazionale delle Forze Armate le vittime delle guerre sono state ricordate anche a Derice dove Nello Savalli, presidente della sezione locale dell'Associazione Nazionale Combattenti Reduci, ha deposto una corona di alloro davanti al monumento della patria che si trova al Valio. A causa delle disposizioni per contrastare l'epidemia del Covid non c'è stato alcun corteo né cerimonia pubblica. Nello Savalli, assieme a Franco Rimpici e Giuseppe Morici, anche loro della sezione di erice dell'Associazione Nazionale Combattenti Reduci, è partito da Piazza della Loggia per arrivare nei giardini del Valio dove ha deposto la corona di alloro davanti al monumento dei caduti, simbolo di memoria e dei valori di patria e libertà.